Ciao a tutti, oggi sono tornato ad un nuovo video e questa volta voglio fare un video in cui voglio ringraziare tutti i miei iscritti che abbiamo accumulato fino ad oggi. Siamo in 57, mi ringrazio tantissimo perché non so se meritarli questa quantità di iscritti perché, a parte che faccio video da quasi un annetto mi sembra, sì, però non sono stato tanto presente perché, non so se vi ricordate, avevo fatto un video a novembre e poi quello dopo l'ho fatto a marzo, quindi distanza di quattro mesi proprio interminabile. Infatti, infatti forse è per questo che ho pochi iscritti perché conosco alcuni youtubers che sono iscritti da un annetto o anche da sei mesi e hanno tipo mille iscritti perché fanno un video ogni settimana. Io al massimo ne favo un video ogni mese ultimamente perché, perché insomma, non so, mi è entrato in testa di fare un video ogni mese perché voglio essere presente. In questo, in questo modo così voglio essere presente comunque. Comunque vi voglio ringraziare tantissimo. Come sempre, nei commenti ditemi che video fare perché sono un po' a corto di video come vi avevo già detto nel precedente video. Comunque ho in mente un video che appunto ci tengo a farlo perché un ragazzo, un ragazzo che sarà iscritto al mio canale, quando ho scoperto che avevo Instagram, appunto, mi ha seguito anche su Instagram e quindi ho deciso di fare quel tag di Instagram, si chiama, mi sembra. Ho visto molti video su quello e quindi prossimamente lo farò. Adesso oggi non lo fa perché sto registrando con l'iPod e ho visto che nel tag di Instagram devi far vedere, insomma, le foto. Io non ho altro, non so come farvele vedere se non con l'iPod, quindi magari un altro giorno registrerò con il telefono di mia sorella o di mia madre, non lo so, e così con l'iPod vi faccio vedere le foto. Comunque, chiusa parentesi. Niente, questo qui sarà un video molto breve, spero di farlo breve perché faccio sempre video troppo lunghi e parlo, parlo, così. Niente, vi ringrazio ancora, detto la terza volta, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!